Viste tutti i discorsi, tutta la stagione passa molto dalla gara di domani contro l'Arenato Curiangolana da un recupero da Vinci. Sì, 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 quello è il nostro obiettivo, quello di tornare a P8 da Giulianova. Però non dobbiamo fare l'errore che domani sia una partita scontata, un risultato scontato, perché di fronte incontriamo una squadra forte che a inizio campionato era una di quelle che voleva vincere il campionato insieme a noi Giulianova. Ha dei giocatori in rosa veramente forti, davanti giocatori come Farias, Cercelluti, Massa e Miciche, quindi è una rosa da non sottovalutare. Noi sicuramente non è una partita scontata, dal risultato scontato, però noi abbiamo un obiettivo troppo importante da raggiungere. Non dobbiamo fare l'errore di pensare alla partita di Spoltore, di raggiungere la promozione il prima possibile. Noi dobbiamo raggiungere la promozione, ma adesso si raggiunge Spoltore, si raggiunge col capistrello, per noi non è un problema. È normale da allenatore, dico che prima si raggiunge meglio è, però ancora non è fatta. Domani ci sarà una partita difficilissima, però l'importante è che i ragazzi si fanno trovare pronti. Diciamoci, vogliamo prendere una piccola rivincita nei confronti dell'Angolana, che è una delle squadre insieme a Giulianova che ci ha battuto. Lì abbiamo fatto una bruttissima prestazione, forse la peggiore insieme a quella del derby. Però noi, al di là delle insidie, è normale, le insidie sono la terza partita di una settimana. Devo valutare più che altro la condizione di un po' di ragazzi, vedere se fa ruotare come ho fatto domenica con la pastese. Mi ha sorpreso, mi ha sorpreso, però questa è una squadra che può fare veramente tanto. Dal punto di vista d'atteggiamento, dal punto di vista dello spirito, a basso sono stati incominabili. Ma era una partita che dovevi giocare per forza così. Ma come le ultime quattro, il resto adesso non conta più il bel gioco, la prestazione di un singolo, adesso conta il risultato. Ma vedete pure quando facciamo gol, è tutta la rosa che va a risultare tutti quanti insieme. Questo è un grosso segnale per l'allenatore. Non so che non ci vuoi pensare, però ti fa sorridere pensare di tornare allo Zanni domenica, visto l'anno scorso. Fatemi pensare alla partita di domani. Poi vediamo, si è parlato di questo, però non dobbiamo fare l'errore che domani sia una partita scontata, una vittoria scontata. Perché, ripeto, incontriamo una squadra forte che sicuramente vorrà fare bene la figura contro di noi. Non viene da un ottimo momento, però noi non dobbiamo sottovalutare assolutamente l'angolana.